Che cosa rappresenta per la città di Andria l'apertura della sezione diocesana della Sacra Spina che riguarda l'Associazione dei Medici Cattolici Italiani? Sicuramente noi pensiamo e speriamo che sia un arricchimento per tutta la città. Tengo a precisare che è una sezione diocesana, quindi ovviamente riguarda anche il territorio di Canose e Minervino. L'Associazione Medici Cattolici è un'associazione no profit riconosciuta dal diritto canonico per cui abbiamo avuto un decreto apposito vescovile di riconoscimento in occasione dell'11 febbraio che è la giornata mondiale del malato. Ci proponiamo di portare avanti le tematiche importanti nel campo della sanità ma non soltanto della sanità con l'ammalato al nostro centro di osservazione. L'Associazione Medici Cattolici Italiani è un'associazione di fedeli laici fedeli laici impegnati perché credenti, perché cattolici, perché medici perché desiderano improntare la loro azione, la loro azione clinica, la loro azione medica ai principi della fede cristiana, del sostegno alla sofferenza, dell'aiuto alle fragilità e soprattutto di una vicinanza che non è soltanto fatta da applicazioni tecnologiche ma soprattutto è fatta di vicinanza spirituale e umana in un momento in cui direi la sanità italiana va un momentino isterillendosi e nel momento in cui contestualmente è richiesta questa forte carica umana al medico. Non tutti forse sanno che clinico significa, viene dal greco, ha un significato profondo che significa chinarsi, clineo, chinarsi sul malato. Significa questo abbracciare il malato come persona non come organo ammalato, non come semplice malattia di un settore ma come persona. Il territorio regionale si arricchisce di una nuova sezione che riguarda l'associazione Medici Cattolici Italiani che cosa ha in più questa associazione? Qual è lo scopo, qual è l'obiettivo che persegue? Fondamentalmente la cura della persona in sé, che non è soltanto la persona malata è la cura e il custodire della vita dal suo nascere al suo tramonto naturale è bello che in un periodo di crisi, di valori, dove di solito nascono tutt'altre associazioni un gruppo di medici e soprattutto quelli un po' più giovani hanno fortemente voluto la nascita di questa sezione. Questo significa che c'è fortemente chi crede nell'uomo, crede nell'amore per l'uomo e crede soprattutto nel recupero di un valore della salute che è diverso da quello che viene inteso come diritto alla salute.